Ciclabile sì o ciclabile no? Mentre Bassano discute sul progetto della corsia riservata alle biciclette, che a breve dovrebbe sorgere sul ponte della Vittoria, l'amministrazione comunale sembra invece avere già deciso. Guardate questi cartelli, sono ancora coperti e quel che c'è sotto per il momento non lo sappiamo ancora. Facile però immaginare che possano essere proprio le indicazioni di una futura zona ciclabile, con tanto di segnalazione dell'inizio e della fine dell'area riservata alle due ruote. Per scoprirlo non ci resta che attendere ancora qualche tempo, anche se un importante indizio potrebbe avercelo dato proprio lo stesso sindaco Poletto nell'intervista rilasciata a Ceglieri. Si tratta di due percorsi in entrambi i sensi di marcia, segnati a terra con una riga gialla e poi con una segnaletica verticale, in cui un pezzo di caraggiata viene dedicato alle biciclette. Che siano dunque proprio queste, le segnaletiche verticali cui faceva riferimento?